Ciao a tutti, ben trovati in questo nuovo appuntamento per l'aggiornamento del lampo perfetto, cioè il 17.62. Intanto voglio ringraziare nuovamente tutti gli iscritti e nuovi iscritti e tutti coloro che si stanno iscrivendo, veramente siete in tanti, mi ringrazio di cuore, col cuore veramente. Continuate a seguirmi e mi raccomando attivate anche la campanella se volete essere sempre aggiornati delle mie previsioni. Intanto vabbè, è inutile che le storie dire, abbiamo vinto, vinto e stravinto, quindi io spero davvero che voi abbiate vinto. Allora, veniamo al nostro aggiornamento, seguite il video fino in fondo altrimenti non capirete poco niente. Allora, l'aggiornamento riguarda questo ambo, questo ambo che ho chiamato perfetto, perché è davvero un ambo perfetto. Eh, quindi attenzione perché attraverso una mia tecnica visiva, assolutamente visiva, ve la spiego anche. Semplicemente abbiamo il 17.62. Io ve l'ho messo adesso, stasera questo filmato, perché non mi ne è raccorta di questa appunto tecnica visiva che mi è apparsa proprio. E spero, insomma, ci porti fortuna e tante e tante e tante belle vincite. Allora, ho fatto questo conteggio, in pratica ho sommato il 17, cioè le due unità, l'1 più 7 mi dà 8 e 1. Poi ho sommato anche 62, le due unità, 6 più 2 mi dà 8, 2 volte 8. E quindi diciamo che, avendo questo ambo, ambate, torino, venezia, chiaramente stiamo aspettando l'otto a venezia, ma io non è che aspiro al ritardatario, anzi io li lascio proprio perdere, li lascio stare. Però il fatto sta che mi esce questa tecnica visiva, come vi ho appena detto. Quindi proviamo a... Ami.